Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Grace, eccoci qui con il terzo gameplay di Mad Max. Nella puntata precedente abbiamo saccheggiato un po' di benza qua e là e abbiamo rubato la scocca del nostro nuovo veicolo e infine cammi il nostro meccanico, ci ha installato un bel arpione pronto ad essere collaudato. Proseguiamo da dove ci eravamo lasciati e partiamo a Razzo, questo è il scocca con anche il rostro davanti. Ok, partiamo. Dunque, dobbiamo raggiungere questi qua. Questi qua. Ok, dice, usa la potenza di speronamento della Magno Offit per distruggere il disponente Fars e ridurre la minaccia nella regione. Ok, vediamo se è così facile come lo scrive lui. Ok. Io scenderei a prendere anche questo qua. Questo qua. Ok. Altro non c'è, mi sembra. Da recuperare? No. Ok, possiamo risalire in macchina. E ripartire. Dunque, c'è andrebbe essere un altro lì, dove c'è il puntino verde. Allora, ok, l'azione. Allora, ok, l'azione. Sembra che non ci sia niente da prendere qua. No, non vedo nessun rostame da prendere. Ok, distruggiamo l'altro. Vediamo un po' che strada è che ci conviene fare. Ma qua c'è un salto. No, non vedo nessuno. Vediamo un po' di mirarlo adeguatamente. Vediamo un po' di mirarlo adeguatamente. Allora, le cose sono lontane. No, le cose sono lontane. Ok, altri pezzi non mi sembra di vederne. Vediamo un po' di mirarlo adeguatamente. 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 Ok, quello non dovevamo andare c'è da lasci però, ok. Let's see. Gets defended. Warcrier. Snotter out front, that's all. C'è un cecchino d'accampamento. Un occhio. E un volatore di guerra. Un altro mi sembra che non c'è. Non vedo altri. Ok, il primo accampamento è spesso sorvegliato da vari tipi di difese. Quando ti avvicini all'accampamento le difese entreranno in stato di allerta. Se l'indicatore del livello di allerta si riempie, le difese e le guardie dell'accampamento verranno potenziate, diventando molto più pericolose. Allora, le cose sono due. O arriviamo là in maniera stealth, oppure andiamo là di violenza e vediamo un po' cosa possiamo fare. Nooo! They've spotted us now! They've spotted us in battle! They've got to be quick. Andiamo. Ma forse anch'ero giù tutto questo orpione qua? No, perché se fosse anch'ero giù tutto io... Eh, può fare una roba del genere? No, maedsch. Poi ci sono di eccociare i suoi problemi! C'è una roba del giallo che è avvenuto a loro promana! Poi rimbete! E noi vissiamo di nuovo! Sì, 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 sì. mi sa che dobbiamo scendere non posso cosa ammirare no non me lo da dobbiamo scendere a piedi ragazzi quando ti avvicinano all'oratore di guerra questo entrerà in stato di allerta se l'indicatore di livello di allerta si riempie i nemici circostanti saranno potenziati diventando più pericolosi però noi se ci chiamiamo fuori saliamo in macchina vediamo un po' se no non funziona perché ok ok, ok, vieni, vieni we're under attack we're under attack scream on spine stupid rage no, Mr. Roche easy man do something die for the process kill for your lord everyone stand complete ok allora, dobbiamo distruggere il gerricello quindi burlatore eliminato burlatore eliminato qua non hanno niente da darmi qua niente questo burlatore qui niente ok è aperto stare qua no 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 un attimo mi riporto devo vedere il tasto per impostazione configurazione comandi dunque io volevo vedere un attimo i comandi non del controller ma è un tasto volato no ok è il tasto 4 ok Ok. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Qua c'è... Allora... 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 In giro... Anche se... Non ho proprio... Niente che ci indica... Il pezzo... No... 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 Allora... No... 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 Comunque... No... 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 per ottenere più acqua dalle forze interessante più rottami durante il saccheggio almeno carburante anche questo non è male io comunque direi questo po ok poi abbiamo detto per aumentare di un livello nessuno questo questo della benzina interessante e vediamo un attimo una domenica nota che abbiamo schiappone direi questo può ok conferma ok ok spotters that's trouble where's the car no he hasn't credevo che ci avesse incurato la macchina ok torniamo al garage ragazzi ma possiamo anche entrare nel menu garage direttamente da qua il potenziale da 4 perfetto intanto di nitro seleziona ok ok quindi e direi di installare questa installare il doppio in prodotto necessario 35 ok seleziona eseguita ok quindi adesso abbiamo anche l'impianto nitro mi sembra che non c'è niente altro che possiamo potenziare ok ragazzi io direi che possiamo fermarci qui con il nostro terzo episodio di questa serie mad max comunque spero che la nostra avventura vi stia piacendo in tal caso iscrivetevi al canale lasciate un bel like commentate e condividete sui vostri social network ci vediamo con il prossimo gameplay e un saluto a tutti da grace gamer 78 grazie